ok popolo la piccola ahahah per il papà papà l'acqua l'intero armonica per te lo che mi sono portato a cercare per te per te ma amare a fare alcuni ora non c'è quello che è la nota il modello carrile del porto di nuovo e non ho letto la città città non c'è non c'è per favore per favore modi anche con il percorso l'epoca il progetto non è troppo facile di rimanere in piedi guarda che quando vuoi dare figa non riesce voglia la pari cerchiamo tratti da fai 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 vedere che cazzo è questa merda guarda lo faccio per un po' un cazzo attuicato per il motorino oh non fare casino col motorino perché? perché no? che cazzo che ne frega ma sono più di altri ma perché? che volo a fare un po' di altri no ahahahah non sono lui e sono giocati oh ctta vai no 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 che ctta la dice il mio va bene 5 si ammazza ma non è ancora partito dove c'è un po' di altri dai moto ti dico ma la caga bravo 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 la volta che viene dall'altra parte no a te lo toccare la mia no non non ti ho 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 no no ti ho la verità e ma se non c'era niente come fai ma 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 ma